per il mondo dalla Corea del Norte, attenzione! Ricapitolando, dobbiamo provare ancora con gli elettrodi e le palle Pat Mitini, Bambi, tre bidoni per la pappa e Lucazze delle tabbe Qua gli stanno bene, gli dispensa pipì Qua, da lì larghi ci ballate, cazzo Papa e io, madre, un libro per colorare, però parliamo dopo Gli sparo io al virus, che io ho una mira incredibile E poi voglio la coppa, potrebbe anche essere una coppa Covid Domani mi dai una casa proprio sopra le terme di Marrakesh Che c'è Albano, c'è Luca Lautero, pure Luca Leonè e pure Don Luca Lo so che fa freddo, ma tanto mi porto i cappelli Tendo a Pignacolare, niente Non capisco la politica Due, tre, madonna Un grande applauso A più violenza in questo caso A più violenza in questo caso